Continua il nostro poggerone social dopo Davide Mazzocca e la volta di Antonio Matera, centrocampista alla sua seconda stagione in Irpinia. Probabilmente è stato uno dei più continui, tanta qualità in mezzo al campo e grinta non tira mai indietro la gamba, il suo contratto scade nel 2024 e ci sono buone possibilità di proseguire anche in futuro. Il classe 96 ha collezionato stagione 30 presenze tra campionato e Coppa Italia per un totale di 2.138 minuti giocati, due eletti siglati in stagione per Matera, una contro Giuliana nella gara di ritorno, l'altra contro il Taranto 2-2. Un assist confezionato in occasione della sfida interna contro i Pugliesi sul gol di testa siglato da Casarini da calcio d'angolo. Nel nostro poggerone social tra Instagram e Facebook Matera guanta la piena sufficienza, anche se per qualche tifoso il compitino non basta. Il centrocampista di Sansevero dovrebbe continuare la sua avventura in Irpinia anche per la prossima stagione. Dopo Matera il centrocampo si chiude, con la meteora Marco Garetto.